La finale di Eurogames, il programma condotto da Alvin e Larry Blass, è andata in onda nella prima serata di giovedì 24 ottobre su Canale 5, dove per l'ultima volta abbiamo visto le nazioni europee in gara sfidarsi a colpi di giochi strampalati e prove di abilità. Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore della puntata è stata la Germania, mentre l'Italia si è classificata quarta. Ecco la classifica completa dell'ultima puntata. Alla fine di una delle sfide, verificatesi durante il programma, quelle delle Alpi Bavaresi, durante il turno dell'Italia, uno dei concorrenti di San Felice e Circeo ha chiesto alla sua fidanzata in diretta televisiva se volesse diventare sua moglie. Ebbene, l'amore triunfa sempre ed è lo spettacolo più bello che si possa vedere. Inaspettatamente si inginocchia davanti a tutto il pubblico ed esordisce con la fatidica frase «Mi vuoi sposare?» Immediata è la commozione della ragazza che, imbarazzata sulle prime, esordisce con un sonoro «Oh no!», quasi come se non volesse credere a quanto stesse accadendo. Ma sorpresa del romantico gesto non esita ad annuire, emozionatissima e bacia il suo futuro sposo ancora inginocchiato. Un bacio piuttosto appassionato quello tra i due innamorati che finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.